Volevo fare una cosa pesante in relazione a voi, insomma. Eminenza e gli anni mi hanno insegnato ad essere un po' più saggio, almeno. Non posso però esimermi dall'esprimere tutta la mia consolazione, perché questa mattina ho letto che il Ministro della Salute Grillo ha deciso di assumere nel suo staff a Roma un mental coach, cioè un preparatore mentale. Voglio dire che io condivido questa scelta, la ritengo necessaria. La ritengo assolutamente necessaria, anzi urgente. Come sapete mi è capitato di dire negli ultimi tempi che la riforma più urgente che io considero si debba fare in Italia, non è la finanza, è la riapertura dei manicomio. Che Dio abbia gloria, pasaglia, ma se stiamo veramente... Grazie.